Buongiorno, mi chiamo Gaspard, ho 22 anni e vieno di Parigi, in Francia, e fa un anno che sono all'Università di Daniel Furt, in Erzbuss. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro, ho 25 anni, vengo da Trento, dall'Italia, e ho cominciato a studiare in Erzbuss. Mi chiamo Giordano, ho 24 anni, vengo da Trento, in Italia, e sono qui a Klagenfurt, per cui ho cominciato a giocare a rugby con la squadra, per gli ultimi mesi, è un'esperienza fantastica. Mi chiamo Giordano, sono francese, ho 24 anni, sono studiato a Rennes, e sono arrivato in marzo per fare un Erasmus, in un programma di management internazionale. Mi chiamo Giordano, ho 24 anni, vengo da Trento, in Italia, e sono qua a Klagenfurt, a fare il Master in International Management. La prima volta inizio a giocare con Klagenfurt, i Tigers, quando arrivò in settembre, nel 2017. Mi chiamo giocato il capitano della squadra, e sono arrivato nel primo settembre, e ho provato con la squadra. E ho cominciato a giocare con la squadra. Io avevo giocato un po' di rugby prima, ma solo con gli amici, quando non ero professionale. E poi ho cominciato a giocare il rugby in Tigers first, con i Tigers. Mi chiamo giocato un po' di rinforzamento, in Italia. Mi chiamo giocato un po' di rinforzamento, in Italia, in Italia. E' stato un po' di rinforzamento molto interessante, per giocare con un bambino di Austria. Il spirito che viene con il sport, perché hai buoni, 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 e questo è quello che ci si tratta. E invece, hai buoni, senti felici, senti felici, senti felice, senti felice. E questo anno, siamo stati molto bene, abbiamo vinto la finale e credo che l'onete l'escrizione di l'escrizione al final è stata una esperienza che ho avuto. Sono molto felice che ho fatto la sua scelta e che ho iniziato a giocare il sport. L'amore che mi piaceva il più era il viaggio all'Austria, con i ragazzi. Era una squadra amici. Abbiamo già trovato molti amici. E poi ovviamente questo posto. È un ottimo posto di poter giocare in Plagenfurti, di montaggi e delle belle pizze. La migliore esperienza era prima di essere con voi, perché quando studiiamo all'Università, abbiamo trovato più persone internazionali e non avevamo abbastanza contatto con i locali. È stata un'opportunità di giocare con gli austriani e di scoprire la cultura in questo modo. Un grande sensazione di unità, molta solidarietà tra le persone che sono coinvolto. Mi sento davvero in una grande famiglia e questo è quello che mi apprecia. è di più, però in ogni surroundingzza siamo riuscili, ma di sì se vende, è grande, ma di sì, è di fare sport e di contatto, e di metà con gli locali, che di avere buoniexistingi, si trattasse da un contatto con i locali e di ritorno, è molto divertendola. Anche se non hai giocato prima, non importa perché hai migliorato molto velocemente e ti piacciono davvero. E se si è successo di essere qui, sono sicuro che non saranno mai avuto questa esperienza. Mi ha perduto il cervello? Mi ha perduto il cervello dopo il trening. E' un po' di qualità con il team, è quello che mi ha visto la più. Mi ha perduto molto di fare una season, non continuare, ma è un'erasmus. È stato molto bello perché abbiamo vinto la championship, è stata una migliore esperienza. Quando mi arrivo a casa, mi chiede a dire a tutti i miei amici che abbiamo vinto la championship. È stato bello. A presto. 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 Grazie a tutti.